Ciao a tutti ragazzi, come potete vedere sto iniziando una nuova serie, il gioco Staraportal e ne ho approfittato, visto che è un gioco che ho sempre voluto comprare ma tra una cosa e l'altra non l'ho mai comprato con il Black Friday su Steam ne ho approfittato e l'ho acquistato ho acquistato sia l'1 che il 2, quindi pensavo di fare una serie su Portal e niente, quindi iniziamo subito dal primo capitolo a via partita spero vi possa piacere perché comunque si è un gioco vecchio però neanche troppo ok, vediamo un po', stavo dormendo po' cos'era, e questo cos'è, posto ok, rompiamo tutto, perfetto ah, dobbiamo aspettare, mi sa ciao 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 no a livello 0 no ma osse allora livello 0 ok andati qua premere per raccogliere Ah ok, bisogna applicare l'oggetto sul bottone Perciò un'apertata Ah ok, per passare la regola all'alto Si basse, e per passare la regola all'alto Scusate un attimo che abbassa ancora l'audio perché è un po' alto Ok, per esempio E' giustamente c'è voi, giustamente vedete Sentite poco la mia voce Ok, ah, ok, primo livello Quindi avesse, posse la leggerla all'alto Siamo andare a prendere il cubo Allora, devo andare a prendere il cubo buono amore ok devo prendere il cubo e andarlo a mettere la dai apriti io devo aspettare che appaia la ecco perfetto faccio il cubo dai dai ok devo andare qua ok perfetto e anche il primo livello è stato fatto su su un po' lento sto ascensore dai su c'è il caricamento ottimo si vede che comunque il gioco è un po' vecchia si vede che comunque è un po' vecchia per favore per favore un piatto molto noticabile di sangue non è parte di nessun protocollo test ma è un effetto non intenziale della grilla di emancipazione materiale che può, in semi rarici emancipare semplici pezzi, enamel e tigre ah quella è la pistola ok perché bisogna ottenere le varie pistole del sole per poi poter sparare questo mi ha aperto qui andiamo ok aspettate un attimo oh ok ok ora apre il portale buona ok scusate mi abbassa ancora questa voce che mi da veramente fastidio oh così 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 roma di video ok allora il portale è lì qui qua si è aperto ah ok devo semplicemente prendere la pistola ok ottimo il portale si l'ho rotto oh livello 3 l'ho rotto allora lì c'è il portale andiamo così ah la così tac perfetto l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto non so fatemi sapere comunque questa serie se vi può piacere perché a me io ho letto molte recensioni ho visto molti video e devo dire che il gioco mi intrippava a vecchio poi diciamo bisognava svelare praticamente gli enigmi per riuscire a superare le varie stanze ok il quarto livello qua bisogna trovare un cubo allora mi si è aperto ah ok allora prendiamo allora apriamo qua la porta prendiamo il cubo andiamo qui selezioniamo ho aperto per i primi livelli devo dire che sono molto semplici saranno semplicemente per spiegare il le varie le varie cose che si possono fare poi l'introduzione chiamiamo e speriamo di arrivare a livelli un po' più difficili a breve ok quinto livello allora due cose allora vediamo un po' ah qua c'è un cubo apriamo la porta lì prendiamo il cubo arriviamo qua ok lo mettiamo qui ora devo andare di là allora passiamo da qua andiamo qui la così si entra di qui si prende il cubo perfetto as part of a required test protocol l'asso aperto quindi da perfetto perfetto good job as part of a required test protocol ok 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 ecco l'unica cosa in sto ascensore ci metti sempre troppo a passare da un livello all'altro mi fa perdere il tempo beh c'è il solito caricamento ok qua ah sesto livello la palla questa palla balza sul portale mi sembra defini qua a destra vediamo si apre il portale ah perfetto ah mi ha attivata la pedale qui ok ok mi stanno facendo vedere in pratica tutti i vari strumenti che troverò nei vari livelli per farmi capire il funzionamento dai 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 su su che voglio di giocare su 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 no livello 7 non è un po' l'alarmi e le aziende di flash hanno trovato per agitare il pallone di energia e hanno quindi stato disabili per la sua sicurezza arriva qui e attiva quello ora per andare da sopra portale portale ok perfetto ora guardiamo dentro al portale no 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 ho sbagliato quando arriverà no così non vedo bene così oh ecco arrivata la piattaforma ci saltiamo su dai su su muoviti ok perfetto ho finito anche questo livello ok adesso fu trematuto sto ascensore dai aprimi ste porte dai che son pronto e un po' bello 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 Allora là Quindi entra qua Sbatte qui E poi quindi Deve andare là Perché deve andare in quello lì Dovrebbe essere giusto No Ah è molto più avanti Ah è là Che stupido Che se il Mosco Ah ok Ok perfetto Ora quindi andiamo su quella piattaforma E poi No anzi sono Qui indietro Ok aspettiamo che arrivi la piattaforma Eccola Speriamo di non finire dentro Oh che pelo Eh se si finisce qua dentro Penso si muoia Che pelo Ok perfetto Ok Andiamo al prossimo livello Anzi Prossimo livello Direi Che Allora Arriviamo al prossimo livello Ok allora Sono arrivato al livello 9 Direi di far finire questa puntata qua Giusto per La caricherò Ah 9 su 19 Ok quindi ci sono altri 19 Altri 10 livelli Vorrei sapere Magari commentatemi Per messaggio privato Vedete voi Se la serie vi può piacere Io Comunque il gioco Lo giocherò Scusate la ripetizione Scusate la ripetizione però Perché mi piace Quindi se volete Volentieri Mentre gioco Registro E poi carico su youtube Quindi se vi piace il video Mettetevi un bel mi piace Commentate Iscrivetevi a facebook Alla mia pagina Che metto in descrizione Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti